salve oggi proveremo a commentare l'opera di uno dei più grandi poeti del ventesimo secolo avremo infatti di paul selan chiaramente parlare di un poeta così importante così grande oggi così poco ricordato anche quasi messo completamente da parte quasi completamente ignorato da quella che diciamo così l'industria culturale del nostro tempo invece selan esattamente come primo levi come sol genitzin come jean ameri come sibinia verbert di cui abbiamo anche parlato e come tantissimi altri grandi scrittori grandi come walter benjamin come antonio gramsci come tanti grandi intellettuali è stato uno dei tanti forse però il poeta che più di tutti ha incarnato quella che è stata in fondo la tragedia del novecento la tragedia dei totalitarismi della società di massa dell'olocausto ovviamente della shoah ovviamente parlare di paul selan significa anche parlare di noi stessi perché parlare di un poeta così grande come ho detto che poi ha scritto non neanche così tanto nella sua vita nella scrisse diverse tre opere importanti a partire poi dagli anni dal secondo dopo guerra praticamente in poi lui come sappiamo morirà nel 1970 suicida si leggetterà nella senna parigi significa anche in qualche modo fare una retrospettiva di quello che è stato il novecento di quella che è stata e che è ancora in fondo l'epoca in cui noi viviamo perché paul selan come sappiamo lui era nato adesso giusto per addentrarci in maniera un po così marginale nella sua biografia che come ho detto uno chiunque si può andare a leggere era nato in romania in realtà nel 1920 in una piccola cittadina che oggi si trova tra l'altro in ucraina era come sappiamo di origine ebraica dopo che aveva lui poi come sappiamo comincerà a studiare poi in seguito in germania infatti lui vivrà quasi buona parte della sua vita inizialmente in germania e poi si trasferirà negli anni 50 a parigi selan intanto gli studi lui frequenterà il liceo classico se non sbaglio lo avvicinano subito alla grande letteratura comincerà a leggere rilke i grandi contemporanei da rilke appunto a ovviamente alla grande a kafka anche i classici ovviamente da ghete a baudelaire selan diciamo con gli autori che più di tutti lo ispireranno poi avrà anche una vicenda tragica quando i suoi genitori verranno come sappiamo uccisi moriranno durante la seconda guerra mondiale con l'avvento del nazismo selan quindi attraversa nella sua vita tutti quegli sconvolgimenti terribili del ventesimo secolo perché lui sarà in qualche poi deportato in diversi campi di concentramento campi di lavoro in romania si sentirà sempre responsabile anche della morte dei suoi genitori perché i genitori verranno il padre morirà verranno catturati dai nazisti il padre morirà di tifo in un campo di concentramento la madre verrà fucilata poi in seguito e selan infatti proprio a causa anche della sua fuga per non farsi catturare dalle ss la sua fuga lui la considererà sempre quasi come una in qualche modo quell'azione che ha permesso poi ai ai nazisti di riuscire ad arrestare a catturare la sua famiglia e questo elemento infatti questo senso di colpa non lo lascerà mai lo porterà avanti per quasi tutta la sua opera ma per quasi tutto praticamente per tutta la sua vita infatti per selan il crimine peggiore del novecento della nostra epoca non è tanto nei negli orrori chiaramente del nazismo negli orrori di un'umanità che è riuscita a concepire delle realtà inimmaginabili che noi forse non che ancora oggi non riusciamo neanche minimamente a immaginare cosa possono essere stati determinati luoghi infatti giustamente selan era proprio del parere che dell'olocausto della shoah su cui poi c'è stato un gran parlare come sappiamo come sempre d'altronde nell'epoca di asini raglianti come la nostra di pappagalli che ripetono le cose che sentono chiaramente i concetti che sentono dire da altri pur di farsi di mettersi in mostra selan in realtà c'è anche quella sensazione di un poeta che per la prima volta nella storia è quasi completamente annichilito davanti agli eventi della storia e nello stesso tempo dice anche che in fondo gli unici che hanno diritto di parlare della shoah sono i sopravvissuti o i non sopravvissuti dato che per selan infatti i morti di aschwitz i morti di belgen benson di tutti questi di questi orrori ma anche dei gulag sovietici che tra l'altro selan conosceva perfettamente dato che infatti poi aveva sperimentato anche sulla sua pelle durante gli anni successivi alla seconda guerra mondiale gli orrori del comunismo ovviamente dello stalinismo gli orrori di un novecento di un'epoca che infatti è riuscito a percepire per la prima volta a cancellare l'individuo a fare come dirai in alcuni suoi versi dei capelli umani soltanto utilizzarli per riempire dei cuscini della pelle dell'uomo utilizzarla della pelle umana farne delle saponette o utilizzarla per fare altri orrori di un uomo che viene completamente scomposto cancellato depaperato annullato quasi del tutto aschwitz in fondo è l'esempio tipico della nostra epoca non è soltanto la rappresentazione del teatro di un folle di un'ideologia criminale della mostruosità di una di una malattia che è riuscita a prendere forma e che come abbiamo visto poi che questo come sempre non viene spesso sollevato è riuscita anche a far sì che milioni di essi di persone di tedeschi di intellettuali di gerarchi di scienziati e di ingegneri e di tutto quello di tecnici e di burocrati fossero in grado di commettere delle atrocità inimmaginabili inimmaginabili infatti anche questo aspetto che magari poi pensatori sopravvalutati come ann arendt che magari sottolineano nel testo lì sulla banalità del male come se appunto come se il vale fosse unicamente nella sua nella banalità nella la stupidità anche il male in realtà come giustamente selan che vivrà questo questo sorta di martorizzazione questa violenza non soltanto di essere stato sradicato per sempre dalla sua terra di origine come abbiamo visto nascerà la romania un po la sorte che toccherà anche emil sioran si conosceranno infatti due non è un caso che poi selan vivrà quasi tutta la sua vita poi a partire dagli anni 50 abbiamo detto a parigi dove conoscerà sioran avrà incontri con altri grandi scrittori intellettuali sarà amico ovviamente di adorno conoscerà anche addirittura poi verso la fine degli anni 60 avrà un incontro anche con heidegger un incontro abbastanza freddo dove heidegger si comporterà in misura veramente quasi ignobile nei guardi di selan che neanche lo sta un comportamento quando il filosofo tedesco non stava neanche lì a sentirlo quando lui parlava anzi in qualche modo il suo appoggio al nazismo di heidegger era nell'incontro con selan non ha neanche provato diciamo così a cercare di dimostrare anche un pentimento per quello che quell'ideologia maledetta è riuscito a fare nell'europa ma in realtà l'esempio tipico che selan riesce a mostrare anche nei suoi versi delle sue poesie è il fatto che nel novecento si sia riusciti a trasformare le intelligenze di asservirle completamente alle logiche del male che è poi in fondo un atteggiamento che oggi troviamo nella stessa identica misura oggi un'intelligenza che non serve a qualcosa è un'intelligenza del tutto inutile noi oggi infatti non amiamo più il poeta non abbiamo più il filosofo non abbiamo più l'artista perché abbiamo cancellato la cultura perché la cultura non serve a niente cioè nel senso che non è serva di nessuno riprendendo il discorso in fondo aristotelico quando aristoteli diceva che la filosofia era maestra di scienza perché non è subordinata a nessun'altra scienza non è mica l'arte del servitore per la prima volta invece nel novecento troviamo filosofi intellettuali scrittori che collaborano con partecipazione a quelle che sono poi delle ideologie criminali non soltanto il nazismo il fascismo ma anche ovviamente il comunismo discorsi fatti tante volte e infatti qui è importante anche recuperare quel discorso che poi se la cercherà sempre di in qualche modo sottolineare in una sua poesia meravigliosa in una poesia che in fondo rappresenta anche tutto quello che è rappresentato per lui anche il novecento che si intitola il mio mondo da riprodurre balbettando voglio leggerla velocemente perché sono giusto cinque versi il mondo da riprodurre balbettando nel quale io come ospite avrò soggiornato un nome che cola trasudato dal muro su cui si alza lambente la lingua di una piaga anche in questo caso infatti se l'anno stesso vede l'idea anche del dell'incapacità di scrivere dell'incomunicabilità che era un tema come abbiamo visto trattato anche da altri grandi pensatori scrittori del novecento l'idea stessa di uno scrittore che oggi non può fare altro che guardare il proprio disfacimento guardare il proprio anche l'impotenza che hanno le parole però nello stesso tempo per selan esiste anche una serie invisibile di rimandi continui di solchi cosmici della memoria non è un caso che anche i salmi che lui scriverà sono presenti sempre in qualche modo sono carichi anche di una grande speranza sono carichi di una necessità di rimembranza ogni parola per selan è sempre centilinata è sempre in qualche modo ben calibrata i suoi sono come abbiamo visto anche nella poesia che abbiamo visto il mondo costruito balbettando da riprodurre balbettando i versi sono molto brevi estremamente dove manca anche il senso del ritmo dove c'è in realtà come abbiamo visto poi un senso anche di di dover necessariamente dare una grande di sottolineare di demarcare con grande forza ogni singola parola ogni singolo suono anche ogni significato che nel novecento come abbiamo visto viene completamente a mancare in fondo l'azione stessa del poeta per selan si identifica anche nella necessità di riprodurre un significato quel significato anche ultimo dell'uomo che la modernità cerca in tutti i modi di sottrarci perché il novecento come abbiamo visto è anche il secolo dove l'uomo si trasforma in numero dove viene consostituito dove gli uomini vivono soltanto in balia del denaro della follia dell'ideologia dove si può tranquillamente mandare in un campo di concentramento un essere umano e toglierlo di mezzo non è tanto diverso la situazione oggi questo anche il fattore fondamentale cioè selan vivrà costantemente rinchiuso nei campi di concentramento anche dopo la fine del conflitto perché vede anche nella cosiddetta vita normale del nostro tempo nella vita anche dell'uomo comune che crede realmente che ormai questi eventi siano passati che riguardino solo quei poveri sfigati quei poveri disperati che ci sono finiti e di un uomo che ormai oggi pensa soltanto a divertirsi a banchettare sulle scenerie del mondo a ridere sui morti i morti per selan sono eternamente presenti più presenti dei non morti che viviamo che vediamo oggi che sono apparentemente vivi il significato stesso dei morti qui chiaramente la presenza dei suoi genitori di quei genitori che lui continuamente continuerà sempre cercherà sempre di tenere destra la memoria perché la memoria non è tanto il ricordo di un episodio di quegli episodi maledetti di quella di quegli anni che sono che hanno portato l'umanità quasi a distruggersi a cancellarsi quegli anni che sono riusciti quel periodo storico che è riuscito a concepire come abbiamo detto aschwitz che è riuscito a concepire i gulag sovietici che è riuscito a concepire le bombe atomiche di hiroshima e negasacchi e che per poi e che poi in seguito degli anni 40 successivamente la seconda guerra mondiale l'uomo contemporaneo ha cercato di rimuovere ha cercato completamente di tener lontani come se a fondo questi episodi fossero soltanto ormai materia di materia da storici pagine così da sfogliare ogni tanto ma che ormai non ci riguardano più perché ormai sono passati 70 anni ormai non non ce ne frega niente l'idea stessa di un mondo che nel novecento non soltanto come abbiamo detto con la seconda guerra mondiale ma anche in sé pensiamo alla guerra fredda pensiamo anche alle altre la guerra del a tutti gli altri conflitti che ci saranno in seguito alla corsa agli armamenti un mondo che è sempre stato sul baratro della catastrofe e che nonostante ciò riesce ancora a volere intorno ai costo dimenticare in fondo l'ottimismo sfrenato del nostro tempo che infatti se l'anno in qualche modo vivrà anche questa indifferenza dell'uomo contemporaneo questa indifferenza assoluta verso la sofferenza dell'altro perché noi mai come nella nostra epoca siamo completamente assorbiti da un egoismo che non si era mai visto dove basta che stiamo bene noi come diciamo tante volte e poi di tutto il resto del mondo può anche andare a scata fascio non ce ne frega assolutamente nulla se l'umanità si è sempre anche contraddistrita dal fatto che era pronta ad aiutare pronta ad aiutare il prossimo soprattutto nella figura del popolo anche ma anche dei cosiddetti principi nobili che avevano in qualche modo anche un senso di responsabilità meno che non fossero chiaramente dei dei libertini o dei o dei tiranni ma c'era sempre un senso civico anche nelle antiche aristocrazie una necessità di aiutare i soccorrere i più bisognosi di fare qualcosa per migliorare le condizioni sociali politiche culturali della società per la prima volta nel secondo dopoguerra selan assiste a questo mutamento quasi antropologico della coscienza umana dove l'uomo non ha più interesse per il proprio simile dove infatti si pezza soltanto a divertirsi tipico del nostro tempo e di tutto il resto non ci interessa potrebbe morire davanti ai nostri occhi anche una persona un bambino siamo quelle volte che guardiamo i telegiornali no quelle scene terrificanti e noi stiamo sempre lì a mangiare tranquilli non ci toccano sono cose che riguardano altri ecco perché selan dice sempre noi siamo tutti colpevoli i responsabili di aschwitz non sono soltanto i i vari ufficiali della gestapo i vari gerarchi tutti quei mostri lì chiaramente quelli sicuramente sono stati la punta dei diamanti i responsabili siamo noi tutti il discorso che abbiamo anche cercato di fare quando abbiamo parlato di quel buffone di salvini ce la prendiamo con il mostro chiaramente da sbattere in prima pagina perché poi così vogliamo dormire con la coscienza tranquilla tutti siamo responsabili di quegli orrori e soprattutto quei normali che oggi credono veramente che vivere sia possibile ancora dopo determinati eventi vivere appunto nella dimenticanza nello stordimento nell'imbecillità come facciamo oggi che basta che andiamo nei centri commerciali compriamo il nuovo telefono andiamo a mangiare nei ristoranti e poi di tutti quei milioni che sono morti non ce ne frega niente ecco perché la poesia infatti di selan è sempre una poesia che parte unicamente dalla necessità di ricordare dalla necessità anche di sottolineare costantemente il fatto che noi siamo in fondo anche unicamente nella memoria questo era in fondo un tema che aveva trattato anche abbiamo visto zibini e herbert in maniera diversa parlando ovviamente della polonia tra l'altro come sappiamo polselan farà parte anche del gruppo 47 gruppo di cui di grandi scrittori intellettuali tedeschi sorto proprio dopo la seconda guerra mondiale a berlino se non sbaglio in germania che aveva grandi esponenti da ingeborg bachmann appunto lo stesso polselan e a molti altri selan infatti è stato come abbiamo detto il poeta che poi avrà anche una carriera diciamo così verrà spesso anche sicuramente in qualche modo ascoltato più come superstite di questi campi di aschwitz per quanto poi in realtà lui non andrà mai ad aschwitz verrà però deportato in altri campi soprattutto in campi di lavoro in romania dovrà addirittura anche lavorare per alcune per una clinica psichiatrica nel 44 proprio per non essere arrestato un'altra volta dalla dalle ss cercherà di camuffarsi in qualche modo verrà ascoltato infatti poi negli anni 60 comincerà anche a tradurre molti grandi scrittori da ungaretti anche ad emil sioran che come abbiamo detto si conosceranno i due tradurrà le opere di sioran in tedesco incontro con heidegger poi sarà anche un incontro abbastanza deludente perché infatti vedrà sempre anche questa questa grande differenza di un pensatore sicuramente importante come martin heidegger che però oggi forse è stato anche viene anche un pochino eccessivamente forse considerato pensiamo che oggi infatti nelle università di filosofia si studia quasi soltanto heidegger o comunque ma che come essere umano è stato diciamo così forse abbastanza in qualche modo abbastanza discutibile il suo comportamento selan infatti nelle sue opere anche continuamente si rivolge anche a noi tutti parlando anche in prima persona nei suoi versi in treci anche non è un caso che infatti lui utilizzerà spesso anche la parola infatti nulla il nulla infatti in ebraico sappiamo che si dice ayin che è anche però il nome per una lettera muta ayin in realtà ha due significati un significato che è quello appunto che vuol dire nulla ma nello stesso tempo anche occhio infatti selan è anche ha anche questa capacità di mescolare perfettamente una di mescolare il tedesco facendolo dialogare però anche con l'ebraico infatti cerca anche di tornare a quelle concessioni a quelle connessioni poi del linguaggio anche originario della bibbia di un dio che ha abbandonato anche gli uomini ecco perché il dio che selan nomina costantemente anche nelle sue poesie lo identifica sempre con l'ebraico appunto con il nulla che però nella capala non ha mai una accezione negativa non è il nulla come possiamo intendere noi cristiani il nulla nella tradizione cabalistica rappresenta in realtà appunto una costante apertura rappresenta anche l'assenza anche il niente rappresenta in realtà la presenza stessa di dio la presenza dell'onipotente infatti tra l'altro Selan sarà anche grande amico di Gershon Shulam che infatti sappiamo grande scrittore filosofo anche intellettuale ebraico scriverà molti testi proprio sulla cabala e infatti si parla sempre anche nelle poesie di Selan di quell'altro di quell'assolutamente altro che è sempre presente Selan c'è anche chiaramente come tutti i poeti del novecento questa sorta di concezione di un uomo che ormai è stato completamente sradicato non soltanto dalla sua terra d'origine tipico infatti del mondo come abbiamo visto del popolo ebraico che nel novecento sempre di più si sentirà sempre marginato bastonato a destra e a macca che non troverà spazio infatti lui poi uno degli ultimi viaggi che farà sarà proprio ad Israele farà un viaggio in Israele proprio nel 69 se non sbaglio in quella terra promessa anche che per molto tempo il suo popolo aveva anche sognato e auspicato ma in fondo anche la sua poesia così scarna veniva a volte anche criticato da molti critici perché i suoi testi non avevano lui non si ispirava a modelli letterari infatti un giornalista una volta quando lo dovette presentare gli chiese quasi ma lei ha uno stile che a chi somiglia e lui rispose con la sua giusta ironia beh spero che il mio stile somigli a me stesso nel senso che la poesia anche di Selan non è una poesia che può essere paragonabile ad altri grandi autori è ovvio che poi ha dei modelli come abbiamo visto Mandelstam sarà anche uno dei grandi poeti da cui lui prenderà anche diverse poesie lui dedicherà anche a Mandelstam non è il caso che anche un grande filosofo del novecento come Hans-Georg Gadamer dedicherà un suo testo un suo libro ha proprio il titolo anche di una poesia se non sbaglio di Selan Selan avrà dei modelli ma in reale il modello che ha presente nella sua poetica è quello della sua stessa esperienza di vita quella di un uomo che è costretto a guardare l'orrore è costretto a guardare nell'abisso e la sua più grande sofferenza sarà proprio quella di vedere un occidente un mondo come quello poi che si va a delineare dopo la seconda guerra mondiale che è sempre più quasi volutamente obliato nella necessità di dimenticare tutto noi oggi infatti vogliamo dimenticare il passato perché così possiamo anche tranquillamente banchettare sopra le scenerie del mondo sopra i cadaveri che in silenzio riposano sotto la nostra terra martoriata e infatti è proprio in questa indifferenza che poi creerà sempre di più questa malattia anche che Selan vivrà per tutta la sua vita questa depressione poi negli anni 60 verrà ricoverato più volte anche in sanato in diversi istituti anche diverse cliniche proprio per questi esaurimenti anche per questa sua depressione che lo accompagnerà quasi per tutta la sua vita avrà delle relazioni anche condetto con diversi intellettuali ma sempre sporadiche si butterà a scrivere ma sempre mai per cercare il consenso più come una necessità anche di dover come ho detto poco anzi dare memoria a quelle voci che sono rimaste inascoltate perché la poesia come dice proprio Selan non era possibile ad Auschwitz non era possibile in quell'orrore ed ecco perché il sopravvissuto ha il dovere etico morale culturale di tenere sempre sveglia diciamo così di tenere vivo quel ricordo non tanto affinché questi orrori non si ripetino perché chiaramente la nostra epoca sta facendo forse anche di peggio da un certo punto di vista noi oggi compiamo dei massacri che sono certo non saranno quelli delle camere a gas ma se pensiamo a quello che oggi avviene nel sistema odierno capitalista o comunque nei sistemi poi che abbiamo visto il comunismo per tutto il novecento o nelle varie nel fatto che ormai l'individuo viene completamente smembrato sostituito come se fosse un pezzo ormai da laboratorio tranquillamente interscambiabile forse questo è il crimine peggiore che si possa commettere i danni del genere umano avere ormai anche cancellato la cultura averla quasi completamente messa da parte ecco perché un autore come Paul Selang così importante oggi non viene quasi mai citato si parla sempre magari non lo so di qualche piccolo qualche testimonianza magari si legge il libro di Anna Arendt ma non si vanno a leggere i testi fondamentali di autori che poi queste tragedie le hanno realmente vissute ecco perché è importante leggere Primo Levi è importante leggere appunto un Paul Selang è importante leggere un Jean Améry autori che hanno visto gli orrori del novecento che hanno visto realmente con la propria vita pagandone il duro prezzo con la propria vita Shalamov in Russia Solghenitsyn Mandelstam e tutti i grandi poeti che abbiamo citato tante volte perché soltanto la poesia infatti che oggi chiaramente è scomparsa nelle nostre società può dare realmente può portare quel ricordo fondamentale può denunciare gli orrori della nostra epoca ecco perché oggi la poesia è stata anche annullata perché soltanto attraverso le parole così pregnanti così forti del verso poetico di questa poesia che è anche minimalista nel caso di Paul Selang è estremamente può ricordare forse la poesia di Ungaretti quasi ermetica ma è estremamente lucida chiara levigata anche come se fossero a volte dei muri dei sassi che ci vengono lanciati è presente come ho detto la memoria di quello che noi abbiamo fatto e di quello che ancora oggi stiamo facendo al nostro pianeta perché oggi che ci diciamo la società evoluta è migliore appunto del grande progresso in realtà come vediamo questi orrori non soltanto forse oggi si potrebbero anche si stanno in qualche misura diversa ripetendo pensiamo che oggi come ho detto se ci fossero realmente i campi di concentramento e in certe zone del mondo esistono ancora esistono campi di questo tipo non soltanto non faremmo nulla ma anzi continueremo a dibatterci nell'ideologia e a dire chi ha ragione o chi ha torto e facendo così la nave il nostro Titanic continuerà ad affondare mentre noi continuiamo a discutere come dei idioti o a ballare come dei perfetti folli ecco perché è fondamentale in questo caso recuperare le parole e i versi di Paul Celan della grande poesia della memoria della grande cultura grazie 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 a tutti grazie a tutti